salve care carissime buongiorno buongiornoissimo benvenute bentrovate siete nel mio canale io sono sempre la vostra Zaira e i suoi tarocchi come vedete qua ho fatto questa bella panoramica ed eccoci qua per il messaggio del giorno per voi io inizio subito perché sapete che scelgo le carte davanti a voi allora ragazzone mie come state spero bene in ogni caso sono contenta che ci incontriamo tutte le mattine con questa bella sinergia tra di noi dove andiamo appunto a vedere cosa deve regalarci cosa vuole regalarci l'universo ovviamente sapete che non ci sono domande quello che uscirà fuori può riguardare l'amore sentimenti emozioni lavoro professione insomma tutto io tratto qualsiasi argomento è ben accetto tranne quello della salute perché lì insomma serve il medico e non ovviamente i tarocchi io non tratto temi sulla salute detto questo voglio informare che sono sempre interattivi collettivi quindi questo è caduto e lo prendiamo quindi prendiamo sempre con le dovute cautele i responsi che ovviamente non possono risuonare su tutte quante voi per cui fate tesoro di quello che esce fuori se vedete che c'è una risonanza sulla vostra storia su qualcosa che voi vi riconoscete bene se no lasciate correre e tanto io lo faccio tutte le mattine non lo interrompo mai neanche se sto in vacanza neanche se a momenti sono male insomma l'ho sempre fatto non è mai stato interrotto questo interattivo per cui non abbiate timore e se non sarà oggi sarà domani comunque ci sarà sempre magari un qualcosa che vi può riguardare poi invece per coloro che si riscontrano ovviamente non prendete decisioni importanti con l'esito di un interattivo ci mancherebbe perché sono sempre comunque con le letture collettive per cui anche lì cercate di insomma essere cauti nel così nelle sensazioni che provate e soprattutto approfondite e andate poi a diciamo a verificare con un consulto personale per coloro che lo vogliono fare con me trovate tutto nella descrizione dei miei video cioè dove c'è il video poi c'è descrizione aprite questa spunta e vi esce fuori la descrizione del video nonché dove ci sono appunto i modi per contattarmi questa è venuta fuori e la prendiamo allora ragazzone mie io ho terminato vi faccio l'elenco delle carte nonché le carte in uscita i tarot e le sibille italiane viene fuori la carta dei deliranti poi abbiamo i tarot fren e viene il carro che in questo caso il carro è una bella macchina poi la carta uscita da sola dei green tarot è il fante di pentacoli la carta tarocchi di intuiti viene fuori il cavaliere di bastoni lo so per chi non conosce queste carte non c'è un cavaliere ma vi assicuro il cavaliere di basconi di bastoni scusatemi l'autore ha un suo modo personale di interpretarli allora poi abbiamo i cosmis circos tarot viene fuori la carta della fortuna la ruota invece unica monta rotto il 5 di bastoni questo 5 di bastoni guardate com'è particolare molto particolare direi eh sì molto particolare qui c'è tanto da dire allora i messaggi magici delle fate emerge la carta di connettiti con la natura e poi abbiamo questa carta sei bellissima ti desidero mamma mia ragazzole mie che c'è qua molto molto bella questa stesa eh mi sembra veramente bella allora guardate io qua vedo un incontro vi dico la verità vedo un incontro con una persona proprio del vostro destino un incontro che voi dovevate fare e questa persona è una persona intanto un bell'uomo diciamoci la verità un bell'uomo passionale una persona consapevole del suo fascino una persona che sa come conquistare una donna e sa come attrarla e insomma abbiamo a che fare con una persona dal carismo molto forte l'unica diciamo l'unica handicap è che il cavaliere di bastoni spesso come viene così si allontana perché sono sempre energie in continuo movimento però voi ce l'avete proprio scritto nel vostro destino quindi ci sarà un'attrazione molto forte con questa persona ma anche molto combattuta anche molto intrigante piena di problematiche di situazioni che si ingarbugliano fra di loro tante persone vi invidieranno ci parleranno sopra ora questa ovviamente quello che mi raccontano le carte può essere un qualcosa che sa per avvenire nel presente è avvenuto nel passato oppure deve ancora venire nel futuro e questo poi lo decidete voi dai vostri riscontri se vi ritrovate con una persona che già conoscete la state vivendo ora questa persona però proprio per questa sua energia è un po' diciamo da conquistatore da don Giovanni di noi altri chiamiamolo così ha un che di comportamenti un po' infantili un po' diciamo che si prende molto le distanze da assumersi subito delle responsabilità probabilmente è sempre in continua evoluzione per le sue esaltazioni per le sue contrarietà probabilmente un giorno si sente predisposto verso di voi il giorno dopo magari preferisce andare un po' a come dire a cavalcare sempre la sua vita perché insomma il cavaliere di bassone è un seduttore quindi non è impegnato i suoi impegni sono solo quelli di avere tante situazioni magari coinvolgenti ma comunque sempre predisposto alle novità ecco questo è magari l'handicap però devo dire la verità io qua vedo qualcosa di più nei vostri riguardi no? di solito il cavaliere di bassoni è un po' farlocco poi con questo fante di pentacoli potrebbe anche essere ancora diciamo che deve ancora arrivare ci vuole tempo perché arrivi a una maturità sentimentale però io qua vedo voi in una energia meravigliosa cioè voi qui avete fatto cure di bellezza che ne so vi siete fatti un po' di qualche siringhetta avete fatto una dieta avete cambiato col colore dei capelli insomma qui voi siete nel pieno della vostra bellezza proprio avete vi siete ringiovanite no? siete connesse con la natura vi siete forse rigenerate insomma state in un momento veramente bello 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 e siete in un momento di ripresa volete proprio siete aperti a qualsiasi cosa vedete come siete belle vi siete così lasciate un po' alle spalle tutte le situazioni pesanti e volete proprio con questo carro una riuscita volete vivere dei momenti allegri di cose belle insomma desiderose di ritrovare quelle emozioni quindi questo è un incontro della fortuna cioè un incontro del destino quando spunta la ruota della fortuna è un incontro che voi dovete fare non si sgarra ok questa persona comunque sappiate che nonostante la sua energia un po' da come dicevo io insomma un po' da conquistatore però è veramente molto preso da voi perché vi ritiene una donna bellissima e vi desidera tantissimo cioè lo avete proprio scioccato qui c'è stato proprio un colpo di fulmine diciamo così quindi l'incontro è molto bello trascinante e passionale vivetelo così com'è poi come si suol dire se sono rose fioriranno e se sospine pungeranno insomma uno deve anche lasciarsi andare qua vedo veramente una sorta di devozione che questa persona ha nei vostri riguardi quindi cavalcate l'onda e non c'è niente di strascendentale qua se non tanta invidia perché insomma conquisterete o avete conquistato un uomo che è molto ambito e che è molto preso da voi che sia chiaro quindi io che altro vi voglio dire vi posso dire chapeau vivetevi il momento e come vada vada in bocca al lupo a tutte quelle che si riscontrano ovviamente vi ricordo di mettere un like per interagire positivamente e comunque per ringraziare ovviamente questi interattivi la fatica la dedizione iscrivetevi al canale questo servirà questi due gesti a sostenere e auto diciamo sostenere questo canale sarete da supporto al canale poi vi ricordo di non mancare all'appuntamento di domani mi raccomando tutte qua a vedere cosa ci deve dire l'universo io parto con il mio abbraccio pieno di luce ciao a tutte a tutti